Musica Ragazzi comunque è proprio vero che non può piovere per sempre Può solo peggiorare, magari nevita Come a Deus Come a Deus il video? allora la mia teoria è che quando tu lo vedi te ne sai il Carlo del futuro, perché adesso sei il passato, già lo sei diventato. Ciao!